Accorcia le distanze con il mondo del lavoro. Studia con Università Mercatorum, l'Ateneo delle Camere di Commercio. Con un metodo innovativo formiamo i futuri manager, i nuovi imprenditori e professionisti del domani. Abbraccia il cambiamento e cogli le opportunità del Made in Italy. Università Mercatorum. Il passaporto per il tuo futuro. Università Mercatorum.